Con i bambini è abbastanza semplice. Si comportano bene? Premi. Si comportano male? Punizione. Chiudi gli occhi. Cosa vedi? Niente. Non lo vedi quanto mi fido di te. Voglio andare via. Anche questo significa essere liberi. Sapere chi sei, cosa ti piace? A me piace perché piace a te. Dove siamo? In Patagonia. Alla prossima. Anche il sindicato. A me piace. A me piace. A me piace.